Vedete che alla finale, primo e secondo posto, del torneo Coppa Primavera Cesedi-Lenco si aprotteranno le squadre dell'AS Premana e della Polo Sportiva Oratorio di Piero. Passiamo alla presentazione. La partita si è arbitratta dal secondo arbitro Corti-Francesca e al primo arbitro Tefanoi-Luigi Quadro della S Premana Il Capitano Bellati Manuela Il libero, Quazzini Piziana Il numero 17, Amaduro Rosa Il numero 2, Bertoltini Carlotta Il numero 16, Bertoltini Marina Il numero 15, Codega Maria Il numero 5, Gianora Nadia Il numero 3, Locatelli Eva Il numero 12, Ratti Luisa Il numero 13, Tenerini Francesca Accompagnano la squadra, il dirigente accompagnatore Gianola Rocco Va bene, va bene, va bene, va con voi Secondo allenatore, Casalone Giuseppe Primo allenatore, Comuni Raffaele Bene, passiamo al post-sportivo oratorio per il capitano Il capitano, numero 2, Giacobino Il numero 3, Giacobino Colemmo Chiara Numero 9, Gricca Laura Numero 15, Maggi Ivanga Infine, numero 11, Manganini Primo allenatore, Pesaroni e Roberto Claudio Buona partita Pesaroni e Roberto Pesaroni e Roberto Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.